Siamo sul decollo di Buonasola, qui c'è Renato che si sta preparando, qua invece abbiamo le discussioni economiche, abbiamo fatto una trattenuta di 73 euro e non so cosa sia, sul libretto, vediamo da altri che magari parlano di altre cose, qui riscaldamento, parliamo di riscaldamento, ma dei miei amici vanno a legno, stanno prendendo anche dei boschi per arrangiarsela da solo perché dicono non ce la passiamo, io riesco poi un po' a diversificare un po' i boschi.